Questa schiena troncata non è sempre cantabile a questa risposta bellissima che variano, baciandoci che sospirò il Devo contenta di andare a questa festa bramata come usava il falato e su trigo malzi di sardo ho iniziato a gustare il sardo avendo avuto la fortuna di stare a Berchida per 22 anni sono arrivato giovane, quando avevo 25 anni sono arrivato lì a Berchida e Berchitese e io credo Cessore è la grande figura di Pietro Caso dove in archivio in parrocchia c'era tanto materiale, tante cose belle Pietro Caso era abituato a scrivere anche negli angoli dei giornali forse la carta un po' lì non era molto abbondante allora lui trovava qualsiasi tipo di foglio anche negli angoli dei giornali vuoti e lui scriveva quello che sentiva di scrivere questa stupenda serata per i cento anni della nascita di Antoni Palitta Antoni Palitta che è una delle voci autoliviche della poesia patalese del secolo scorso Patala è sempre stata terra di poeti il secolo scorso abbiamo già citato Monsitta possiamo citare Mura Patala ha dato un ottevole contributo a quella che è la storia della poesia salda con uno schien di ruene non baglia tutta per una per dubitare della sua competenza sua su un uomo di zoo di fattore è stato inserito tra i sospetti e il magnoso e l'antologia per esempio nuovi poeti dialetali in Milano sui Pantanoi a cura del seditore Guido Miano sono uomini esistenti e su vencere assustato gasomines e spettido e su rio airato essa morte comente cantare esa lauda e desafida in mesos a gente mia con colpos e suspiros piedosos su male d'orra di insistente e spacciato tira tosta tosta e tira vai già la ha sagattato sai se sta rampellata i sui annini si installa e non paga colpo e balla chi magari può non è pronuncio patateso aumentare questa voce sospettando questa maschina di una persona che ha dato fama e fatto mai grandi concursi e dato famosa saída che ha dato non ci sono le vie costo impari un senso di colpa provando a noi fino a come non ci sono resistito come tristo è il suo ento a narrare uno di ciò che ha deciso di presentare una tesi in saldo attenzione non è facile presentare una tesi in saldo antomi pazza la voglia ti rende t'omaggio tutto quanto spro te sono venito a onorare sul verso di chiedoso e sul tuo politico viaggio Egeo umile minore a disagio lo spondo trafano mio espreferidoso palitta costa rusa rima mia ti pedo e accettare in cortesia suo verso esaltato in suo sudore inizio la sinfusto e la zinna Pedra beltusa caras Pedralmias isterridas in terra dai manos a piuere valadas oh lontano tempos andadoso in un'antica tiglie pare tutto che il fedasa tutto a mie contare contoso dell'ateralfias a patorrare posti schidanko zoju a patorrare a note russa a custa a idda mia a patorrare a basares a spedralde saldomo il vezzas che è una galchina a carignare un tento un tento tutto sul muro onde saldomo il noas e in 12 giannile ma passere pro escoltare se il tromento impaghe sagara zente mia e il tromusacco procherà simbolare tutto il mare ma pagigas all'agrimas e penas idda mia idda mia è un'occhia il sovurare il suo bosso attitto sassaluna che il sistare dintegu il donzinonte nobito né connoto che il sistare dintegu il donzinie sutta sasspuma delungine bella che ora desa scopertura stuas e noi migrammai a cantar-nos a tutti